ciao a tutti e bentornati nel garage di io come lo faccio da uno di voi mi è stato decapitato questo monitor un neovo e 17 da con la sola affermazione che è guasto non so dire quale sia il problema quindi testiamolo vediamo se è possibile repararlo o nel peggiore dei casi recuperiamo più componenti possibile per prima cosa proviamo ad accenderlo ho preparato qui un cavo di alimentazione il cavo devo dire un po lento però anche muovendolo niente da fare quindi diciamo che sicuramente c'è un problema sul sistema di alimentazione proviamo quindi subito ad aprirlo sono già mancanti le viti quindi probabilmente qualcuno ho già provato a smontarlo quindi Ok Ci sono molti segni di corrosione Proviamo a rimuovere anche questa calotta Protettiva Quindi abbiamo qui la scheda di alimentazione E qui invece la scheda che gestisce l'LCD Rimuoviamo ancora queste viti che bloccano la scheda Non ci sono segni di bruciature o evidenza di componenti guasti Direi di testare alcune alimentazioni Possiamo scollegare intanto i cavi della retroilluminazione LED Possiamo quindi testare le alimentazioni su questo connettore In segrafia abbiamo un più 12, più 5 e GND Colleghiamo l'alimentazione E con il nostro tester Vediamo Qui abbiamo il GND Qui la 12V Sul connettore E spostandoci Dovremmo avere la 12V Qui E non c'è nulla La 5V E non c'è nulla Seguiamo ancora le piste Abbiamo qui la 12V Poi qui c'è un passo 0 Anche qui la 12V E un passo qui 0 In corrispondenza Dei due punti Dove abbiamo Dove vediamo Interrotta l'alimentazione Abbiamo questi due componenti verdi Denominati F1 e F2 Sono probabilmente dei fusibili E sono interrotti Proviamo a rimuoverli E a cortocircuitare la pista Ho rimosso i due fusibili E fatto due passi Con del filo di rave Molto fino Passiamo all'alimentatore da banco Abbiamo impostato una 12V Con un limite a 600mA Siamo a vuoto Proviamo a collegare L'alimentazione Abbiamo un assorbimento Di 13mA 12mA Testiamo quindi ora Come prima Le alimentazioni Abbiamo qui 12V Vediamo qui Questa volta è presente Una 4.7V 1V 12 5V Proviamo a ricollegare Il monitor Ok Blocchiamolo con una vite Lasciamo scollegata La retroilluminazione E proviamo nuovamente Ad alimentare La scheda Ok Cavo collegato Come prima abbiamo circa 12mA Ma il LED qui in basso Ancora non si accende È passato un giorno Scusate per la giacca Ma oggi fa veramente freddo Ho fatto diverse verifiche Non ne sono venute a capo E sono dell'idea Che non vale la pena Perderci altro tempo Continuiamo quindi A smontare Il nostro monitor Già dalla scheda di alimentazione Potremo recuperare I condensatori Che sono buoni Li ho testati E anche Gli spinotti Di collegamento Smontiamo La scheda di gestione Del display Smontiamo anche Questo piccolo schedino Con i pulsanti Di controllo Le casse E anche Questa Lamiera protettiva Dove all'interno Troveremo Sicuramente Anche Le lampade Al neon Per la retroilluminazione Rimosse le viti Laterali E' venuto via Tutta Il display Questo possiamo Metterlo da parte E per aprirlo Ecco Ci sono Delle viti Laterali Mentre Termino Di rimuovere Le viti Tengono al sicuro Lo schermo Volevo farvi notare La qualità Costruttiva Di questo monitor Era sicuramente Un monitor Per l'utilizzo Professionale E a giudicare Dalla quantità Di ruggine Presente Doveva essere Esposto Alle intemperie Allora Qui c'è la scheda Di gestione Del Dell'LCD Vediamo se si può Arrivare ancora più In profondità Giusto per vedere Come è fatto E in che stato È all'interno Perché in realtà Di componenti Ormai Non dovrebbero essercene Più Sono curioso Di vedere se Anche l'interno Ha subito L'effetto Della ruggine Ok Eh sì C'è della ruggine Anche qui Non so se si riesce A vedere Qui È venuto via Una parte dello schermo Possiamo rimuovere anche Questa Cornice di plastica Questo è l'LCD Mettiamo da parte Dopo lo vediamo Qui Retta da questa Cornice di plastica Ci sono I vari fogli Plastici Che compongono Il diffusore Della retroilluminazione Tra questi Troviamo La famosa Eccola qui Lente di Fresner Rimettiamoli qui Perché potrebbero essere Utili Insieme A questo Ve lo mostro Questo Che vediamo qui È Un Plexiglass Dello spessore Di circa 8 mm Alle cui Estremità Superiori Inferiori Sono presenti I tubi Al neon Che Si occupano Della retroilluminazione Il plexiglass Serve per permettere Una diffusione Omogenea Della luce Vediamo quindi Di rimuovere I neon Dall'interno Di questo Contenitore Di ferro Dovrebbe essere Sufficiente Sollevarlo Qui c'è Del nastro Qui all'interno Ci sono I due neon Molto sottili Che illuminano Lo sfondo Del monitor Teniamoli da parte Potrebbero ancora Essere Buoni E ecco qui L'LCD Con questo Foglio in plastica Riflettente Come abbiamo visto Non c'è molto Da recuperare In un monitor LCD A parte Qualche condensatore E degli spinotti Sulla scheda Di alimentazione Abbiamo Due piccole Casse Potrebbero essere Utili Per realizzare Una piccola Cassa bluetooth Portatile I due Neon Che però Sono un po' Complicati da utilizzare C'è bisogno Di un driver Specifico Qualche foglio Di plastica Per diffondere La luce La lente Di fresnel Che è Effettivamente Una lente Di ingrandimento Ma a causa Come potete vedere Della sua scarsa Trasparenza Viene utilizzata Soprattutto In quegli ambiti Dove c'è la necessità Di gestire La luce E anche per oggi È tutto Se il video vi è piaciuto Può esservi stato utile Lasciatemi un like E iscrivetevi al mio canale Io vi auguro Una buona giornata